Finalmente attraverso l'organismo chiamato Corte di Giustizia Popolare per il diritto alla salute, i 3 milioni di aderenti a federanziani, ma non solo, tutti gli italiani che vogliono essere assistiti dalla nostra organizzazione, potranno trovare finalmente dei grandi alleati, ovvero 3.600 medici dislocati sul territorio nazionale con una frequenza minima di due specialisti per branca terapeutica su tutto il territorio per provincia. Inoltre 300 avvocati dell'organismo di mediazione sanitaria autorizzato con decreto da parte del ministro di Grazia e Giustizia, professori di economia sanitaria. Questo permetterà a questo organismo, suddiviso in 12 aree terapeutiche, di poter tutelare il diritto alla salute dei cittadini, che in questo momento, questi nostri cittadini italiani, che non sono competenti in materie medico-scientifiche, non sono competenti in materie legali medico-scientifiche, non sanno che vengono continuamente calpestati dai loro diritti. Un esempio per tutti, l'accesso ad un farmaco biologico, oppure ancora dover aspettare 90 giorni per aver eseguito una chemioterapia. Una chemioterapia non eseguita per tempo significa creare un danno al cittadino perché il cancro aumenta e potrebbero sopraggiungere metastasi. Questo chiaramente quando si parla di cancro è di impatto, ma ci sono tantissimi, tantissimi soprusi che vengono fatti solo perché il cittadino è ignaro di quello che dovrebbe conoscere. È nata la Corte di Giustizia Popolare per il diritto alla salute di Federanziani. Come agirà questo nuovo organismo? Il 4 maggio nasce la Corte di Giustizia Popolare per il diritto alla salute del cittadino. È un'associazione che vede all'interno i 3 milioni e mezzo di iscritti a Federanziani e chiunque voglia aderire per esigenza o per necessità con una schiera di medici nell'ottica di 3.600 appartenenti a tutte le varie società scientifiche. Quindi tutte le specializzazioni nell'ambito della medicina verranno ad essere presenti all'interno di questa associazione. Il diritto del cittadino ma anche del medico nell'esecuzione dell'atto medico viene ad essere coadiuvato da 400 avvocati esperti in diritto del lavoro ma soprattutto in diritto sanitario e questo permetterà ovviamente sia al cittadino che al medico di usufruire un sistema sanitario migliore. Gli economisti sanitari che parteranno a questo tipo di associazione potranno invece verificare se in effetti l'atto medico nelle sue spese possa essere in qualche modo diciamo così coadiuvato da un impatto sul budget nel senso migliorativo della parola o meno. Il prodotto finale è quello che deve essere? Assolutamente questo. Ossia che il cittadino possa afferire a un sistema sanitario migliore che non deve vedere in senso assoluto un aumento della spesa per la cura del cittadino ma un'ottimizzazione delle risorse. I tagli eseguiti in senso assoluto e senza quelle che sono le linee guida delle varie società scientifiche non hanno un gran senso. C'è bisogno di associare sinergicamente l'atto medico con le linee guida legate ovviamente all'atto medico la giurisprudenza, l'economia sanitaria per arrivare a un sistema sanitario migliore che possa in qualche modo favorire il cittadino e dargli il meglio ad un costo assolutamente ottimizzabile.